ciao a tutti oggi abbiamo provato questo bellissimo guantone esteticamente salta all'occhio perché è bello bianco bellissima pelle interno è anatomico e la cosa che insomma più importante è il pollice il pollice comodo dentro quindi questa è una cosa importante per i guantoni adesso poi passiamo la parola dannita campionessa italiana che insomma lei li ha provati e ci dirà un po' sì l'ho provato e concordo con garzia ha una buona guantabilità appena lo metti la mano guanta bene all'interno anche il pollice come dice lui perfetto sono molto morbidi di solito i guantoni nuovi li senti molto rigidi questi invece sentiti belli morbidi subito e l'impatto protegge bene la mano niente approvati grazia approvati